Un piano perfetto. Sono splendidi. Valeva la pena aspettare. Niente viene prima di Diabolic e della sua cattura. Niente. È un'ossessione per te. Stavo per catturarlo. Quando accadrà, la nostra vita cambierà. Quell'uomo che diceva di amarmi... ...mi ha abbandonata. E adesso voglio vendicarmi. Diabolic ha bisogno di fare un colpo al più presto. Che sia mort. Che sia mort. ... Grazie a tutti.